Sono stati danneggiati oggi due capitelli della via Crucis a L'Agel di Arco. Molto probabilmente si è trattato di un mezzo pesante o di un trattore, che per cause sconosciute è piombato sul gradone di pietra che sorregge gli antichi manufatti contenenti le pregiate statue e lignee. Evidenti i segni sul prato poco prima del capitello, che fanno pensare ad un involontario sbandamento che non sia più potuto essere corretto dal mezzo. Le grosse pietre della stazione 11 sono completamente crollate vicino alla strada, come fossero state spinte o trascinate, senza comunque invaderla. Il capitello non sembra sia pericolante, nonostante parte del basamento sia stato portato via. Anche il capitello della stazione 10 presenta lo stesso tipo di danni, ma in forma più contenuta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i sassi finiti sul bordo della strada e che potevano rappresentare un ulteriore pericolo per biciclette e auto in transito.